Lavorano su due fronti principali le autorità sanitarie dell'Ulss 6 Padovana, il focolaio del centro estivo di Padova Nuoto e quello dei ragazzi rientrati da una vacanza in Croazia. Cinque bambini positivi su 94 persone sottoposte a screening, 29 dipendenti e 65 bambini. Non hanno eseguito il tampone, 26 persone lo faranno nei prossimi giorni. Tutti dovranno rimanere in isolamento per 14 giorni in via precauzionale. È stato chiuso il centro estivo dei bambini, rimane invece regolarmente aperta la parte non interessata dal centro estivo perché le due realtà non si sono mai incrociate e quindi piscine regolarmente frequentabili. Il distanziamento fisico, utilizzare la mascherina, lavarsi spesso le mani, sono questi gli ingredienti fondamentali che possono aiutarci a evitare che ci possa essere una ripresa. Oggi la situazione non è preoccupante, è assolutamente governata, controllabile. Sale invece a 9 il numero di positivi nel gruppo di ragazzi che ha partecipato a un viaggio organizzato con altri coetanei del Veneto e della Lombardia in Croazia sull'isola di Pag l'ultima settimana di luglio. Risulterebbero altri ragazzi positivi residenti in Lombardia. Sono stati contattati tutti i residenti dell'Ulss 6 per fare il tampone e tutti i contatti sono in isolamento. Sono stati riferiti alcuni piccoli cluster familiari o di amici di persone di rientro da zone di villeggiatura in Veneto, Rosolina e Cavallino, in Trentino, a Malta e a Corfu. Tutte situazioni via di aggiornamento. In totale a Padova, considerando tutti i viaggi monitorati, ci sono 387 persone in isolamento.